Buonasera, buonasera a tutti dal vostro professore di vita Enrico Capaci. Oggi sono qui per dare una bella lezione, una lezione di vita al piccolissimo, al microscopico, all'invisibile Delimello, davvero piccolissimo Delimello, che ancora una volta mi ha attaccato. In dieci minuti in cui ha parlato di me ha raccontato una serie infinita di stupidaggini e di banalità. La prima volta l'ha fatto in una live nel suo canale insieme al signor M, questa volta in una live nel canale di Antimaterialista, che tra l'altro ha tentato di difendermi, però io oggi sono qui per raccontare la verità totale. Allora, prima un piccolo scuppo, un piccolo segreto su Delimello che nessuno sa. Delimello cinque anni fa era un mio grandissimo seguace. Aveva addirittura meno iscritti di me, mi seguiva sempre e addirittura fece un video, non so se è ancora reperibile, quei video in cui si stilano le classifiche dei migliori canali su YouTube e lui mise me al vertice di questa classifica, riempiendomi di complimenti. Quindi, attenzione, perché vi dico questo, è lecito cambiare idea, ma vi dico questa cosa per un motivo, tenete la mente e fra poco capirete. Prima vi voglio fare capire, perché qualcuno magari ancora non lo sa, chi è Delimello? Delimello è questo, guardate, eccolo qua Delimello. Delimello è uno che due giorni fa è venuto sotto il mio video a scrivere, hai un pubblico di sfigati e lo sai bene. Ve lo dico perché qualcuno ha pensato che ha scritto questa cosa e poi l'ha rimosso. No, l'ho rimosso, io l'ho bloccato ovviamente dal mio canale e da tutti i social. Sotto quale video è venuto a scrivere? Nel video in cui mi difendevo dalle cazzate che ha raccontato insieme al signor M. Siccome ha detto che io ho un pubblico di bambini, ok, io mi sono difeso e ho detto che semmai è il suo un pubblico di depensanti per il 70%, e il 30% tra l'altro ha detto persone invece serie e profonde. Lui è arrivato e mi ha scritto che ho un pubblico di sfigati. E cosa grave è che lui sta andando in giro a raccontare che i miei iscritti lo stanno insultando, sono dei cafoni rozzi che lo stanno insultando. Lui è arrivato e ha scritto questo e poi forse qualcuno se l'è presa e l'ha insultato. Ma è lui che ha iniziato, prima dando dei bambini e poi degli sfigati. E poi sapete perché lui utilizza il termine sfigati, non è un caso. Perché io ho raccontato che alcuni dei miei iscritti sono persone magari, persone un po' fragili, alcune persone insicure, che mi chiedono consigli, io cerco di dare loro conforto. E Dallimelov da classico uomo medio e anche bulletto, pensa, ritiene che le persone un po' fragili, un po' insicure, siano appunto persone sfigate. Non rendersi conto che lui in realtà, una persona come lui, è molto più debole degli insicuri che chiedono consigli. Soltanto che lui da bulletto si mette a dare degli sfigati, come noi il bulletto della classe, che dà dello sfigato a quello un po' timido ed impacciato, magari un po' bruttino o con gli occhiali. Davvero tristissimo e squallidissimo. Dallimelov è uno che si vanta di fare battaglie per migliorare questa piattaforma, la community, YouTube. E poi si scaglia contro uno come me e dà degli sfigati a dei ragazzi che a loro non hanno fatto niente. Hanno la colpa di avere delle fragilità, tra l'altro alcuni. Perché invece, dato che vuole migliorare YouTube, si mette a fare delle live con il signore M, ed è lecito, però col signore M si mette a sparlare di quanto io sia ridicolo e pericoloso. Quando sta parlando col signore M, che è uno che fa, che va mano nella mano a braccetto con Tom Mix, re dei complottisti, ok? Re dei complottisti, che non dico tutti, ma in molti casi, loro sì che sono pericolosi. Loro sì che sono pericolosi. Tra l'altro che il signore M, che al di là di essere un complottista, ha sempre mancato di rispetto a tutti. Allora lì no. A Mario non dice nulla riguardo la pericolosità e al negativo che porta su YouTube. Amico di uno come Tom Mix. E viene a rompere le scatole a me, che su YouTube ho soltanto del bene. Davvero grottesco. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Dalimello, non avendo argomentazione, prima è partito col discorso del Patreon. Che io ho un Patreon ridicolo, il peggiore su YouTube Italia, squalidissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi non si sa perché, non avendo veramente cosa a dire, capendo che non c'è nessuna incoerenza con quello che ho sempre detto col Patreon, ha spostato il tiro criticando e denigrando la mia visione del lavoro. Io dico da tempo che il lavoro non è un valore, che il lavoro non obilita l'uomo, ok? E lui pensa, raccontando questa cosa così, di sputtanare, un mister nichilista, è uno che dice che il lavoro non è un valore. Solo un ignorante può dire una cosa del genere, soltanto uno senza cultura, uno che non lavora può dirlo. Carissimo Dalimello, intanto torniamo al discorso dei cinque anni fa in cui tu mi seguivi. Piccolo particolare, io queste cose non le dico solo adesso, dato che tu continui a dire che io un tempo ero un anticonformista e mi seguivi appunto, queste cose non le dico solo adesso, le dico anche, le dicevo anche all'epoca, quando tu mi alloggiavi così tanto, come mai all'epoca non hai mai detto niente? Vi porto anche un pochettino di prove, eccole qua, eccole qua. Il lavoro è un valore perfessi, 2014. Il lavoro spesso impedisce di pensare, riflettere e maturare, 2014. Attenzione, attenzione, il timido e giovanissimo Mr. Nichilista, il lavoro non nobilita l'uomo. 2011. Quindi pensate anche il vero anticonformista Mr. Nichilista, che dopo è cambiato, diceva già le stesse cose. Attenzione, tu potresti dire, vabbè, magari su quella tematica già all'epoca non concordavo. Allora affrontiamolo questo argomento, perché tu pensi veramente che sia un cretino uno che dice che il lavoro non è un valore. Guardiamo chi sono gli altri cretini insieme a me, vediamo se sono da solo o in buona compagnia. Vediamo chi abbiamo. Abbiamo Filippo Tommaso Marinetti, vi sono dei padri che avendo lavorato, anzi metto anche gli occhiali davvero professore, vi sono dei padri che avendo lavorato per tutta la vita, accumulando denaro per i figli, pretendono che i figli facciano lo stesso, accumulando essi pure in un'ossessione di montagne d'oro che tutti devono aumentare e nessuno godere. Qui la condizione passatista diventa un ineffabile misticismo. Cretino. Andiamo avanti. Bertrand Russell. Uno dei sintomi dell'arrivo di un esaurimento nervoso è la convinzione che il proprio lavoro sia tremendamente importante. Se fossi un medico prescriverai una vacanza a tutti i pazienti che considerano importante il loro lavoro. Ancora Russell. L'etica del lavoro è l'etica degli schiavi e il mondo moderno non ha bisogno di schiavi. Andiamo avanti. Bukowski. Qualunque stronzo è capace di trovarsi uno straccio di lavoro, invece ci vuole cervello per cavarsela senza lavorare. Andiamo avanti. Choran, grande pensatore del Novecento. Il lavoro è una maledizione che l'uomo ha trasformato in piacere. E ancora. Tostoi. Che terribile errore del nostro mondo. Pensare che la fatica, il lavoro, sia una virtù. Nell'uno o nell'altro. Ma piuttosto un vizio. Cristo non lavorava. Toglio un attimo questi messaggi. Per dirvi cosa? Per dirvi che io non sono affatto da solo. Sono in buona compagnia. Per carità. Esistono anche altri pensatori che elogiano il lavoro e sostengono che il lavoro sia un valore. Ma io non ridicolizzo. A parte che non ridicolizzo chi lavora. Ma non ridicolizzo nemmeno chi pensa che il lavoro sia un valore. Penso che sia una posizione rispettabile. Io rispetto anche chi ha la posizione contraria alla mia. Invece Dell'Emelov, dal basso della sua ignoranza, della sua piccolezza, pensa che io sia uno sprovveduto, un deficiente qualunque, che siccome non lavora va a raccontare il lavoro, non è un valore. Quando ho detto c'è un ragionamento, un pensiero. Ma Dell'Emelov non è abituato a pensare. È il classico omettino medio. Dell'Emelov è un uomo medio. Un po' stronzetto. Un ometto medio, ok? Che è cresciuto con la mamma e col papà. Solo la mamma e solo il papà, tutti non lo sa la sua storia. E gli hanno sempre detto, vai a scuola e fai i compiti, altrimenti ti mettiamo in castigo. Diplomati, eh? Non essere mica bocciato. E poi a 18 anni o lavori o vai all'università. Se non lo fai, guarda che ti mettiamo in castigo, eh? Se non sei mica più nostro figlio. E lui ha eseguito, ha eseguito, ha eseguito. Nulla di male. Ma quella mentalità che ti porta a pensare che quella sia la cosa più importante. Tutto il resto non esiste. Dell'Emelov è cresciuto così. E ripeto, è inserito perfettamente in questo contesto di società. Perché bene o male sono tanti come lui. Ma non è in grado assolutamente di capire discorsi come i miei. Quindi Dell'Emelov in realtà non ha capito niente dei miei video all'epoca. Cinque, sei anni fa quando mi elogiava. Non capiva niente. Mi elogiava ma senza capire quello che dicevo. Così come continua a non capire niente, anche adesso il piccolissimo Dell'Emelov. Perché continua a dire, quasi come se io fossi un cretino, che pensa che il lavoro è una cosa inutile. Ma dire che il lavoro non è un valore non vuol dire che il lavoro sia inutile. Non c'entra niente. Lui fa l'equazione, non è un valore, quindi è inutile. Ma chi l'ha mai detto? Secondo te io non so che se nessuno raccoglie i pomodori i pomodori non arrivano in tavola. Che se nessuno pulisce le strade saremmo sommessi dall'immondizia. È una cosa talmente ovvia. Ma dire che non è un valore non significa dire che non bisogna lavorare o che il lavoro è inutile. Significa dire che non deve essere un parametro per giudicare la persona. Lui cosa dice? Eh ma però la società, se va avanti perché la gente lavora, la gente produce beni e servizi, paga le tasse con i quali, appunto, con i quali si pagano gli ospedali, eccetera, eccetera, eccetera. E tra l'altro uno che non lavora usufruisce, prende dalla società e non dà nulla. Mentre uno che lavora fa il suo, producendo e magari pagando le tasse. C'è un piccolo particolare che Dallimelo, come tanti altri, utilizza come unico parametro quello produrre e pagare tasse. Dimenticando un piccolo particolare, un piccolissimo che si può dare alla collettività, si può dare agli altri, anche non in senso materiale, non soltanto in senso materiale, ma per lui, così come la maggior parte della gente di quella società, esiste soltanto quello. E non si accorge che l'80% della gente lavora in Italia, forse anche in più, quelli che possono lavorare, non considerano i neonati, lavorano. E quindi producono, fanno del bene alla collettività in senso materiale, pagano anche le tasse, quindi contribuiscono ai servizi che vanno anche agli altri. Però magari tra questi ci sono tantissimi stronzi, tantissime persone disoneste, persone che fanno male alla collettività, non dal punto di vista materiale, e magari loro lo fanno, ma sotto altri punti di vista. Ma senza arrivare alle cose estreme, omicidi, stupri, proprio che fanno male, persone false, che calpestano gli altri, persone veramente specifiche da incontrare. E secondo Dalli Mellov, però, lavori, paghi le tasse, quindi sei utile alla società. Mentre uno che non lavora, può essere una persona splendida umanamente, magari dà tantissimo alla collettività, però siccome non lavora, non dà nulla in senso materiale. Come se dare qualcosa in senso materiale, beni, servizi, pagare tasse, sia l'unica cosa che si possa dare. Tutto quello che oltre si può dare non esiste. Quindi in questo senso Dalli Mellov è il perfetto esempio di uomo medio di oggi. E perché io parlo spesso di questa tematica? Perché proprio come Dalli Mellov pensa, mediamente in questa società, se uno non lavora, quindi non produce, non paga tasse, ma non spendi la persona, lo si criticherà allo stesso, perché non gli si perdona il fatto che non lavori, non produca, non paga tasse. Mentre se uno lavora, paga tasse, ma è una persona veramente disgustosa sotto ogni punto di vista, umano, intentivo, fa del gran male agli altri e alla collettività, magari si dice sì, è un po' sgangherato, sì, però alla fine fa il suo lavoro. Gli si perdona tutto, non rendendosi conto che non può essere soltanto il bene, il servizio, il parametro per valutare il benessere della collettività. Ma Dalli Mellov, figuriamoci, figuriamoci se capisce queste cose, figuriamoci se capisce queste cose, figuriamoci se capisce queste cose. Il piccolissimo Dalli Mellov, schiavo del sistema, che pensa di sminuirmi. Sono orgoglioso dei miei video che da sette anni faccio sul lavoro e anche su altre tematiche. E io ho fatto il primo video in cui mi sono difeso, faccio anche questo, non tanto per difendere me, anche, ma soprattutto per difendere i miei iscritti, che lui continua ad insultare, dicendo che sono l'ora a insultare lui, perché io, a differenza di lui, a differenza degli altri youtuber, altri caricatori di contenuti, io non ho un pubblico che uso. Certo, sono contento di avere il patron e poter supportare questa mia attività, sono contento che c'è gente che mi supporta questa mia attività, ma io ci tengo a creare una famiglia. Anzi, c'è già una famiglia, spero cresca sempre più, e quando la mia famiglia viene attaccata, io difendo. Io non uso le persone semplicemente per fare visualizzazioni, per fare qualche soldo, assolutamente. Creo, ho veramente l'ambizione di creare una piccola famiglia di persone affiatate, pensanti ed umane. Lui dice, ricorrode perché, avendo detto quello che ho detto, magari qualcuno dei suoi iscritti si è fatto un esame di coscienza e magari ha capito che il suo patron è una puttanata. Guarda che le tue live, due che hai fatto, i dieci minuti, la maggior parte dei mie iscritti neanche le avrebbero viste. Sono io che parlando magari do la possibilità di vederle, ma lo faccio con piacere, perché io non mi interessa di avere chiunque che mi segue, sia in generale sia nel patron, e quindi per me va benissimo la selezione naturale. Quindi se c'è gente guarda il tuo video e cambia idea e non vuole più aderire, per me va benissimo, è un modo per selezionare e avere gente ancora più di qualità. Quindi io sono contento di dare visibilità alle tue parole. Andate pure a vedere i video di Alimello nel suo canale, con il signor M, e nel canale di Antimaterializzo. Sentite le sue cose. Per me è uno che pensa che sia ragionevole il gioco e dice, può tranquillamente andarsene, non me ne frega niente. Quindi altro che mi rode. Io promuovo, perché al contrario suo, che interessa soltanto i numeri, a me interessa la qualità, la qualità. E poi l'ultima cosa, mi scuso per la lunghezza, ma è talmente tanta, che non basterebbe un'intera giornata. L'ultima cosa è quando ha detto che io sono pericoloso, in quanto ho detto che molta gente che mi segue mi ringrazia, perché ho cambiato, ho migliorato loro la vita. Ho risolto delle problematiche. E lui, non capendo niente, cosa ha pensato? Che io sono una specie di ciarlatano, che si sostituisce agli specialisti, agli psicologi, dando consigli magari su malattie o cose molto specifiche. Ma quando mai? Ma quando mai? Non è che uno mi scrive, guarda io ho la schizofrenia, guarda io soffro di questo tipo, cosa posso fare? Sono il primo, a parte che pochi mi chiedono cose così specifiche, ma quando capita sono il primo a dire, guarda io non me ne intendo. Io do una visione di vita, tra l'altro non soltanto in privato. Il discorso era in generale, io su YouTube da sette anni, ma ancora prima del Patreon faccio un video in cui propongo un modo di ragionare, una visione della vita alternativa rispetto a quella che ti contraddistingue, per esempio. E allora molte persone, sentendo certi concetti a cui non avevano mai pensato, cambiano modo di pensare e si sentono meglio, allora mi ringraziano. Stessa cosa in privato, perché le stesse cose le aggiungo anche in privato. Poi qualcuno magari ha delle tristezze, ha dei periodi difficili, mi chiede due parole di conforto, io cerco di dare il mio meglio per confortare e le persone mi ringraziano, ma non do consigli specifici su malattie. Praticamente dell'email lo abolirebbe anche l'amicizia. Un amico ti chiede un consiglio perché sta male, tu gli dici qualcosa, lui sta bene, ok? Ma non soltanto per un secondo, veramente, grazie al tuo supporto, alle tue parole, gli dai spunti per stare veramente bene, per lui non si può. No, devi andare da uno specialista. Io sono un amico, un padre, soltanto che sono a distanza. Non mi sostituisco affatto agli specialisti. Quindi una cialtronata assurda, ha detto, non capendo niente, dall'email non sa niente del mio canale, ha deciso di attaccarmi perché sono un bersaglio facile, anche sul Patreon. La live col signore M ha detto che il mio è il peggior Patreon su YouTube. Con antimaterialista ha detto che il mio è un Patreon, come tutti gli altri, lo stesso spirito di guru, capo, leader, che si mette d'accordo con se stesso, allora. E se sono uguali agli altri, perché lui ha scelto me come bersaglio principale? Perché sono una persona buona, non sono aggressivo, e da vigliacco, da bulletto vigliacco, pende di mira a una persona che per lui può dargli meno problemi, magari rispetto ad altri. Davvero, davvero, davvero. Se pensassi ai complottisti, quelli ovviamente peggiori, non come antimaterialista che magari è possibilista, ma non è come tra la feccia dei complottisti che intendo io. Pensassi ai mali veramente su YouTube, pensassi ai canali, perché Dottola associa il mio canale ai gameplay, e io massimo rispetto di chi fa gameplay, di chi fa make-up, ma dice che il mio canale ha gli stessi contenuti di quei canali lì. Ma che cosa stai dicendo? Tra l'altro il tuo canale, forse, che è più paragonabile ai gameplay o all'intrattenimento puro. Cosa fai tu di controveste, fai YouTube e ogni tanto ci metti un po' di politica, in cui fai l'elogiatore di Renzi? Dai, per favore, vergognati, veramente, vergognati, vergognati, vergognati. E tra l'altro non ha capito che io non è che rispondo unicamente a quelli che aderiscono al Patreon, perché vanno in giro a dire colui che è toccabile soltanto a pagamento. Chiaro, io ho dato priorità da un anno a questa parte a quelli che aderiscono al Patreon, ma quando posso rispondo anche a tutti gli altri. C'è un WhatsApp pubblico in cui tutti mi possono scrivere. E gente che mi ringrazia perché grazie a un modo diverso di pensare è arrivato del benessere. E anche gente che non ha affatto mai aderito al Patreon. Proprio perché io, al di là dei soldi, ci tengo a costruire una famiglia, ok? E le donazioni sono libere. Quindi addirittura hai parlato di dare consigli, è un qualcosa che non sai neanche se sia all'interno della legalità. Ma quello che dici tu, questa accusa che mi hai fatto, è al limite della legalità, è al limite della diffamazione. Vergognati davvero. Vergognati. 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 Mamma mia. Incredibile questa cosa. Poi qualcuno mi dice, ma sì, ma Dell'Emelov in realtà non è che ti ha preso di mira perché seriamente pensa a quello che dice. Ma è semplicemente dissing, per fare visualizzazioni. Ma non è... A parte che non penso che sia così, ma anche se ci fosse questa componente, per me è un aggravante. Perché quando do fare dissing con due battute, tra l'altro spesso i dissing sono concordati, eh. Si mettono un d'accordo, a me non mi ha mai detto nulla. E oppure anche se non è concordato con qualcosa di magari di leggero, no, lui ci è andato giù pesante. Soprattutto ha insultato il mio intero pubblico. Io non accetto che si dica che il mio pubblico è un pubblico di bambini, quelli che aderiscono al Patreon sono dei bambini manipolabili, quando l'età media, probabilmente dell'utente meglio del Patreon che ha aderito, è sopra i 30 anni. Io ho un uomo di 60 anni, uno di 50, molti di 25, molti di 22, sono tutti adulti e tutte persone veramente di spessore che nel tempo ho selezionato. Come si permette lui senza sapere niente? Viene qui ad insultare perché? Perché non avendo personalità. Lui ha ascoltato due o tre video di Cheworison, due o tre video di qualche altro cialtrone che mi insulta, si è fatto molto infinocchiare anche dal suo amichetto, non so se sia ancora amico, Rick Duferre, che dall'inizio ha preso di mira il mio Patreon dicendo che è un Patreon pessimo. e allora lui non avendo, essendo abituato a non pensare con la sua testa, sente lì, sente là, fa gruppetto, in tanti mi attaccano, vabbè dai attacco anch'io, metto anch'io nel branco e attacco il mister nichedista perché è facile. Però, con me caschi male? Perché io, pur nella mia fragilità, sono forte nella mia fragilità. I tuoi attacchi non mi toccano nemmeno di striscio, anche se ci sarà il solito cialtrone che dice, non ti fai che di striscio, ma fai un video, faccio un video per difendere i miei iscritti. Ma non sono veramente disgustato da gente come te perché tu lo fai con me e trovi magari nella fragilità anche una corazza dura, ma gente come te lo fa anche a scuola, nel posto di lavoro. Trovi un bersaglio facile, lo prendi di mira. Davvero vergognati. Trova i bersagli reali. Cerca bersagli più seri, più veramente seri, nel senso di pericolosi. Non attaccare chi fa soltanto del bene, non soltanto a YouTube. Davvero, vergognati. Io abbraccio tutti i miei iscritti, abbraccio gli eroi, abbraccio le eroine, non cambiate mai, siamo più fodi dell'odio, dell'invidia e soprattutto dell'ignoranza e dei piccoli, 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 piccoli Dalli Mellov. Dalli Mellov.